Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui con Anna Paola Sabatini, direttore generale USR Lazio. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi tutti, grazie. Allora, la dottoressa Sabatini è arrivata all'USR Lazio da qualche settimana, è un incarico rilevante, sicuramente impegnativo. Dottoressa, come ha vissuto questo approdo all'USR Lazio proveniente da una realtà un po' più semplice come quella del Molise? Un passaggio importante, indubbiamente come lei descriveva. Il Molise sono stati anni importanti, di grande crescita. Mi sento adesso, trascorsa qualche settimana dal mio insediamento, di poter mettere a disposizione di questo territorio così importante quale è il Lazio, una fonte esperienziale, una base esperienziale importante quale è stata quella in Molise, assolutamente. Certo, la realtà è decisamente complessa. Qual è il rapporto che sta vivendo con le varie istituzioni locali, con gli enti locali? Devo restituire un'immagine assolutamente positiva del rapporto con gli interlocutori istituzionali che abbiamo a livello di ufficio scolastico regionale. Sono sincera, noi immaginavo che in una regione così grande e soprattutto in una città come Roma, dove c'è la presenza di livelli istituzionali che non sono solo regati direttamente al territorio, ci potesse essere un'attenzione così grande a un ufficio di livello regionale. Quindi il feedback che posso dare, anche se il tempo trascorso è tutto sommato breve, è assolutamente positivo. C'è una grande squadra al lavoro. In questo non c'è una realtà diversa da quella che ho vissuto in Molise e questo è un messaggio positivo perché davvero l'esperienza che io avevo vissuto era veramente un'esperienza di approccio istituzionale corale ai problemi, veramente importante anche qui su Roma, in Lazio e questo è fondamentale per la sensibilità e la delicatezza del lavoro che svolgiamo. Bene, lei è appena approdata all'USR Lazio, si è rivolta ai docenti, gli ha inviato una lettera in occasione dell'inizio dell'anno scolastico e ha scritto che svolgono un ruolo di grande responsabilità per il futuro del nostro Paese e sono chiamati spesso a un impegno straordinario. Ma come mai però l'opinione pubblica, a volte anche spesso purtroppo anche i genitori, non hanno questa opinione così positiva e di responsabilità nei confronti degli insegnanti? Mi permette un piccolo appunto, sono una giornalista anch'io. Forse è proprio la comunicazione che a volte è ingenerosa nei confronti di una categoria che invece nella realtà di fatti per la stragrande maggioranza si distingue davvero solo per esempi positivi, per un grande impegno, una grande passione e anche un alto livello di competenza. Quindi io spero che anche attraverso l'attività comunicativa istituzionale dell'ufficio scolastico regionale del quale sono a capo si possano raccontare sempre più spesso narrazioni positive relative a questo spaccato professionale che nel nostro Paese è assolutamente importante, come diceva lei, e portatore di attività positive. Quali sarebbero, secondo lei, le urgenze da affrontare per anche migliorare il contesto professionale degli insegnanti, oltre che quello diciamo di carattere pubblico, a livello poi di opinione pubblica? Cioè gli insegnanti di cosa hanno bisogno oggi? Hanno bisogno di continuare ad investire sempre di più sulla loro formazione continua. Io ritengo che la grande sfida sia questa, proprio di crederci e di ritenerla sempre più un asset essenziale del proprio percorso professionale. Dottoressa Sabatini, lei innanzitutto è una docente, ex dirigente scolastica, ma di cosa avrebbero, secondo lei, bisogno gli insegnanti anche per valorizzare la loro professionalità? Aggiungo a quello che lei esprimeva che mi occupo anche di formazione proprio a livello universitario dei docenti. Ecco, io penso che la leva importante sia proprio questa, che la nostra classe docente creda sempre di più nell'aggiornamento continuo, nella formazione continua, perché formarsi, continuare a formarsi, a studiare è quell'attività che fornisce strumenti, capacità di lettura, interpretazione del presente di cui un insegnante ha sempre bisogno nella propria cassetta degli attrezzi. Bene, altra nota, diciamo, dolente, quella di alcuni genitori, sempre più genitori che si caratterizzano per atteggiamenti violenti. Il Ministro Valditara ha fatto uno studio, ha fatto fare uno studio dal suo staff, sembra che negli ultimi tempi ormai siamo addirittura cinque casi gravi al mese. Da questo punto di vista cosa si può fare? Bisogna lavorare tantissimo, innanzitutto proprio come sta facendo il Ministro, a sostegno dei docenti che sono oggetto di questi fatti gravissimi e fortemente sgradevoli. E poi bisogna lavorare tanto sull'opinione pubblica. Bisogna fare quel lavoro di cui dicevamo prima, ma davvero fare un'informazione corretta per far passare sempre più e meglio, in maniera ottimale, il messaggio dello straordinario e competente lavoro che i docenti fanno tutti i giorni nelle nostre classi con i nostri studenti e le nostre studentesse. C'è chi sostiene che i docenti dovrebbero stare al di fuori della scuola. Sappiamo benissimo l'anno prossimo sarà il cinquantesimo anno dei decreti delegati che invece hanno introdotto la parte genitoriale in maniera importante anche a livello di Consiglio d'Istituto. Lei che opinione ha? Che la collaborazione con le famiglie è un aspetto imprescindibile e che anzi va rafforzato. È chiaro, deve essere una collaborazione positiva tra agenzie educative che hanno lo stesso obiettivo. D'altro canto noi abbiamo nelle nostre classi i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine per un numero importante di ore al giorno, quindi le famiglie hanno la necessità di rapportarsi con noi e noi a loro volta con loro perché sono comunque l'agente educativo primario che ha la responsabilità nei confronti dei loro figli. Quindi rafforzare un circolo virtuoso di collaborazione. Allora, si è espressa, così chiudiamo il cerchio delle varie figure professionali, si è espressa in maniera positiva nei confronti dei dirigenti, sostenendoli e dandogli totale fiducia. Parliamo dei dirigenti scolastici del Lazio. Che rapporto ha con i dirigenti, con i presidi? Un rapporto importante, bello, di grande condivisione. Spero davvero che riesca attraverso la mia opera quotidiana che passi il messaggio che non si sentano soli, che sentano l'ufficio scolastico regionale vicino e a supporto del compito difficilissimo che quotidianamente svolgono nelle loro istituzioni scolastiche. Io personalmente cerco di rispondere personalmente a tutte le istanze che provengono dai dirigenti scolastici del Lazio, che sono comunque tantissimi. Certo, lei è anche esperta di legislazione delle istituzioni educative. È stato statisticamente provato che la maggior parte delle richieste di addebito e anche dei procedimenti disciplinari in generale, nella scuola in particolare, quasi sempre si risolvono con un nulla di fatto. come mai questa, diciamo anche, e anche da un punto di vista, come dire, delle energie e spese, insomma, un po' vogliamo dire, insomma, un gran darsi da fare che poi porta a nulla? Come la pensa? Ritengo che queste siano azioni molto delicate e sensibili che vanno seguite in maniera attenta. Io personalmente sto dedicando grande parte del mio lavoro a questo tipo di dinamiche che vanno a tutela e a sostegno di tutta quella parte maggioritaria e preponderante delle nostre istituzioni scolastiche sana e che funziona bene. Bene, il funzionamento si basa anche su regole, regole certe. Nella scuola da più parti si sostiene che però le regole sono troppe, c'è soprattutto troppa burocrazia. Ma non sarebbe meglio dare ancora più spazio all'autonomia scolastica? Beh, adesso mi rivolge a una domanda che esura dalle mie competenze. Un suo pensiero, ecco, come dire, su un argomento che è comunque di forte attualità. Assolutamente. Ripeto, noi cerchiamo di essere vicino alle nostre istituzioni scolastiche a supporto. A supporto nel rispetto della loro autonomia, anche in rispetto di quello che è un principio di sussidiarietà e quindi di giusta considerazione di quella che è la conoscenza del proprio territorio di riferimento che sicuramente non può essere sottratta alla singola istituzione scolastica. Per noi, conoscere, per l'attività che le scuole svolgono, conoscere il contesto di riferimento è fondamentale per fare un'azione efficace e mirata. Il rapporto invece con i sindacati? Un rapporto positivo. Io l'ho dichiarato dall'inizio del mio insediamento in Lazio e comunque è una caratteristica che appartiene alla mia storia personale in questo ruolo che ormai svolgo da quasi dieci anni. L'amministrazione e i sindacati vanno nella stessa direzione. Chiaro, con compiti diversi, ma ci vuole collaborazione. Devo dire che anche in Lazio ho trovato una grande apertura nei confronti di questo tipo di gestione condivisa, nel rispetto dei ruoli ma comunque avendo chiaro qual è l'obiettivo finale e principale che è lo stesso. Certo, un'ultima domanda. Come direttore dell'USR Lazio, da qui alla fine e al termine del suo mandato cos'è che vorrebbe realizzare? Vorrei che si realizzasse ogni giorno con un tassello aggiunto una collaborazione positiva con il territorio di riferimento e con le istituzioni che vi operano. Però veramente per me ritengo sia essenziale per l'attività che svolgiamo e il collegamento con il territorio e i suoi attori. Bene, ringraziamo la dottoressa Sabatini per la sua disponibilità. Grazie a voi. Far passare un messaggio attraverso la vostra voce così autorevole per me e per l'ufficio di cui sono a capo è una grande opportunità. L'obiettivo principale è quello di dare opportunità a tutti i nostri ragazzi e a tutte le nostre ragazze. Per dare più opportunità, fare comunicazione, fare una buona comunicazione, far arrivare il messaggio di ciò che l'ufficio scolastico regionale fa e vuole fare, è essenziale passare da un soggetto autorevole, rafforza il messaggio. Grazie. 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 Grazie.